buongiorno bambine amore buongiorno ehi panessina buongiorno pane auguri amore buona festa della donna ehi auguri amore mio amore mio che c'è allora intanto tanti auguri oggi è la festa della donna e quindi anche la tua festa perché tu sei una donnina amore non sei una donnina sei una bambina per la bambina ma sei una donnina poi giornata iniziata malissimo vanessa è il ritardissimo adesso io ti porto a scuola poi la verrò a prendere in tre la tardi ed è anche arrabbiatissima con me perché lo sai perché stasera volevo uscire io non voglio perché domani si va a scuola si fa tardi e quindi ha detto che vuole andare a dormire dalla nonna vedremo come andrà questa giornata sarà molto difficile da gestire andiamo a scuola comunque vanessa non è possibile andare a scuola in ritardo tutte le mattine perché dobbiamo aspettare te quindi o la mattina ti svegli o veramente ti giuro e lo giuro qua davanti a tutti che da domani io ti lascio a casa e porto tua sorella ok buongiorno cuccioline cucciolini e tanti auguri a voi e alle donne che conoscete allora stamattina è stata una grande brutta mattinata diciamo che è iniziato ieri sera la mia lite con vanessa perché inizialmente stasera saremmo dovuti uscire fuori con delle amiche poi ho cambiato idea e ho deciso di non uscire perché comunque essendo mercoledì domani si va a scuola e so già che poi di me sarebbe diventato difficile svegliarsi al mattino e lei si è arrabbiata moltissimo per questa cosa e quindi mi ha detto che stasera vuole dormire da mia mamma da nonna elisa vediamo quando uscirà di scuola oggi pomeriggio in quali condizioni mentali sarà ci vediamo dopo sono quasi pronta per andare a prendere vanessa e nastasia manca ancora un pochino ma volevo prendere loro un pensierino per la festa delle donne e poi andiamo a prenderle vediamo un po se vanessa ancora arrabbiata con me e voi ragazzi per la festa delle donne avete organizzato qualcosa scrivetemelo nei commenti sei ancora arrabbiata con me allora ti ho già spiegato che stasera nel locale in cui vorrei andare tu non puoi venire perché siete bambini e non si può non possono venire i bambini quindi vanessa e se volete andare dai nonni a mangiare potete farlo tranquillamente certo la nonna vi sta già aspettando mi ha detto di portare anche il pigiamino però possiamo anche fare una cosa ascoltatemi potete anche eventualmente bravo amore così la mamma esce potete anche eventualmente mangiare lì e poi se volete vi vengo a prendere però non so che ora bravo amore certo che puoi va bene va bene allora ok va bene anche per te ok grazie bambine siete sicure grazie grazie mille così la mamma esce un po va bene grazie ammurine grazie ecco quello non è sì va bene dai grazie mille così la mamma esce un po ok adesso andiamo subito a casa vanè che catechismo dai super merenda veloce che devi andare a catechismo poi ti vengo a prendere nel frattempo noi prepariamo tutte le cosine per andare da nonnelisa siete contente anche per voi l'esperienza nuova giusto eh vuoi dormire dalla nonna poi se ti passa voglia la voglia di dormire mi chiami la mamma ti viene a prendere io non ho problemi va bene giusto mangio una pizza e torno ok se volete tornare da me non c'è problema anche tu amore va bene a catechismo ma venessa ha dimenticato la cartelletta e sta andando a recuperarla da amore muoviti le merendine da portare alla nonna che non le ha eh così domani le portate a scuola abbiamo preso le merendine tieniti i chipster per l'avane amore siamo tornati a casa che cos'è che sei trovato dentro la pallina anche bello oh guardate dai glitter bello allora ti dico solo che tra dieci minuti dobbiamo tornare a prendere vanessa a catechismo ok e poi preparate lo zainetto per andare dalla nonna va bene allora vanessa è tornata da catechismo bentornata oggi un tour de force perché ti abbiamo portato a catechismo siamo andati al supermercato sono tornati per dieci minuti allora ho dimenticato l'estate possiamo andare giù a vedere eventualmente se c'è vado io va bene dai eh vanè vi dovete preparare lo zainetto eh perché io ho da fare adesso va bene lo zainetto con il cambio da portare dalla nonna la nonna dice di portarvi anche tipo un cardigan un maglioncino perché lei sostiene che a casa sua faccia freddo va bene ok cucciolini è giunto il momento di dare il mio pensiero a vanessa e anastasia adesso le chiamo bimbe potete venire giù un attimo un secondo che vi devo far vedere una cosa e guardiamo se ci sono anche gli estate al limone venite venite ci bisogna di correre stop ok aiuto dai venite venite donnine mie è per tutti e due il biglietto questo è il mio pensierino per la festa delle donne e questo è il regalino ma anastasia l'ha già aperto ti piace amore vero che carino facciamolo vedere anche quello di vanessa è identico mi ha detto di bagnare un pochino la spugna qua dentro che bellino con l'orsetto qua dentro c'è una spugna poi la bagniamo non puoi toglierla no non puoi toglierla se no ti rimane la spugna invece deve restare così ha detto di adesso ci mettiamo un po' d'acqua ti piace vani vero che carino ma la rosa è profumata bene l'ho preso uguale così lo litigate siete contenti e un grazie grazie prego allora bimbe adesso però vi dovete preparare lo zainetto perché sta diventando veramente tardi questi li volete portare su? si eh lo mettiamo dove? in cameretta? ok mettiamo un po' d'acqua e li portiamo in camera allora bimbe ci siamo un attimino perse in questo video quindi io vi ho preparato lo zainetto che è sulle spalle da portare da nonna Ani e abbiamo deciso di portare un mazzo di pimosi alla nonna brave 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 dai andiamo andiamo che mi stanno aspettando andiamo? vi ricordo bambine che se avete bisogno della mamma io ci sono ok? vi vengo a prendere eh? Vanessa ti do un compito tu lo sai tu devi riprendere stasera sei tu la videomaker ok? quindi dovrei fare tante riprese a casa di nonna mentre mangiate quando guardate il programma in tv e quando andate a farla nanna a meno che non tornate a dormire da me e io sarei felicissima va bene? che torni a dormire da me? no dormi da nonna va bene va bene a me non puoi dormire da sola puoi guardare quello che vuoi da sola si no guardo solo il letto e vado a dormire no ma io vi vengo a prendere domani eh oh bimbe non vi sembra che stiamo andando in vacanza? che stiamo partendo per le vacanze? siamo pieni di zainetti per una notte mamma che stress non correre che hai lo zaino sulle spalle aspetta 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 andiamo oh la Ani dacci una mano tieni il cancello grazie io sono in super ritardo le mie amiche sono già arrivate no dai grazie Ani Ani l'ascensore schiaccia tu sempre la luce puoi schiacciare allora Vanessa ti ricordo di girare qualche piccolo pezzo di video così poi i nostri amici ti daranno una valutazione per come giri i video ok? così impari ci sono mamma? si? ci sono ci sono ok amore? si vediamo se sei una brava videomaker va bene? sei emozionata? in questo lavoro bella le mie vinde mi mancherete un sacco murine Ani puoi tornare se vuoi eh? ciao ecco si molto nonna anche la nonna ciao sì anche io ciao auguri auguri nonna lisa allora no non hanno mangiato io devo andare perché è tardissimo amore io vado adesso eh quindi mi raccomando ciao amore se cambi idea chiamami eh va bene ciao non elisa ciao grazie buon divertimento ciao amore ciao cuccioline cuccioline sì io sono arrivata a destinazione le mie amiche mi stanno aspettando e non metto in dubbio che mi mancano tantissimo le bimbe non so se mi vedete sono un po' al buio spero che una delle due almeno una delle due ma se fossero entrambi sarei contentissima decidano di venire a dormire con me perché sono da sola perché papà William è in Sardegna e quindi io sono completamente sola comunque ragazzi ho dato il compito a Vanessa di registrare alcuni alcune clip sulla loro serata a casa di nonna Elisa e di nonno Silio e poi ci vediamo con loro domani mattina quando le andrò a riprendere per portarle a scuola ciao un bacione e buona serata ciao ragazzi ho appena finito di cenare adesso vado a lavarmi i denti a lavarmi i piedi e poi mi salto anzi no faccio anche un pezzetto dove gioco a parte va bene? ho appena finito di lavare i miei denti mi sono lavati i piedi io adesso vado a giocare a parte comunque lo spazzolino nuovo di mia nonna ha bellissima ragione scrivete nei commenti qual è il vostro colore perfetto prendiamo le luci no sbagliato no tac no va bene ah era qui the next day ciao ragazzi sono sveglia ciao 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 cucerini e sto facendo colazione e dopo vado a scuola che mi viene a prendere mia mamma come è andata dalla nonna? bene avete superato la prova bravissime tu hai fatto anche i video poi guardiamo che video hai fatto ma sei stata veramente brava quindi concludiamo qua il video ok ragazzi il video finisce qua cuccioline cuccioline iscrivetevi al canale attivatevi la campanella e lasciate un bellissimo anche a questo video ciao ciao Grazie.